Ciao ragazzi, bentrovati. Oggi vi voglio parlare del miglior metodo per prendere note che è anche un metodo per prendere appunti fenomenale ed è anche il mio metodo preferito per organizzare la conoscenza. Si chiama metodo zettelkasten. Pronuncialo come zettelkasten, lentamente zettelkasten. Io l'ho sempre odiato il tedesco, devo essere sincero, mi dicono che è una lingua bellissima eppure in questo caso mi piace. Non so se lo conoscevate già o se è la prima volta con questo video che ne sentite parlare. Comunque scrivetemelo nei commenti e vai che ce lo vediamo insieme. A parte che c'ha un nome impronunciabile e che è poco conosciuto dai più, anzi è quasi sconosciuto, il metodo zettelkasten è uno dei metodi migliori per organizzare la conoscenza e lasciatevelo dire ci fa diventare dei computer ambulanti che sanno esattamente dove andare a ritrovare le informazioni e i concetti che ci servono. Perciò è perfetto per alcuni tipi di studio. Il metodo è stato inventato da un sociologo tedesco, si chiama Luhmann e zettelkasten in tedesco significa scatola di carte e Luhmann con questo metodo ci ha scritto quasi 60 libri al ritmo di due l'anno. Era una macchina, uno studioso fenomenale. Lui di certo non aveva problemi di non avere il controllo sul materiale che leggeva o che studiava o di ricordare alcune cose perché sapeva esattamente dove aveva messo ogni cosa che gli interessava e come integrarla in rete con tutte le altre. Quindi i suoi libri e i capitoli dei suoi libri andavano dritti al punto ed erano sempre coerenti dando un aspetto d'insieme completo di tutto quello che c'era da sapere su un determinato argomento meraviglioso. E infatti Luhmann non solo ha sviluppato questo metodo per prendere note che poi negli anni è diventato anche un metodo per prendere appunti efficaci ma l'ha usato per costruire una rete di conoscenza bellissima come abbiamo detto poco fa per trovare le connessioni tra gli argomenti ricordare all'occorrenza in un attimo quello che gli serviva quando gli serviva e utilizzare tutta la conoscenza che aveva costruito in questo modo per argomentare parlare degli argomenti era sempre un professionista della materia. Se in qualche momento hai provato esattamente il contrario di quello che ho appena descritto da oggi guardando il video non ti succederà più. La cosa più bella del Zettelkasten è la facilità di applicazione del metodo per prendere appunti per scrivere note per studiare e per ricordare come si fa hai bisogno di carta e penna niente di più. Luhmann utilizzava delle scatole all'interno delle quali metteva in modo ordinato le sue note divise per argomento ma vedremo tra poco che noi non abbiamo neanche più bisogno della carta perché ci viene in aiuto un programma bellissimo che è stato sviluppato proprio per mettere in pratica nella maniera più facile il metodo Zettelkasten per la presa di note e di appunti. In realtà Luhmann aveva solo due scatole in una metteva tutte piccole note o degli appunti o anche dei riferimenti bibliografici di quello che studiava nella seconda creava le sue personali note in cui integrava la conoscenza e appuntava nuove teorie e idee sulla base di quello che aveva letto o studiato in precedenza nei libri. Non ti dirò come lui studiava ma direttamente come puoi utilizzare il metodo Zettelkasten per prendere le migliori notie possibili. Quando leggi un libro tieni sempre a portata di mano diversi fogli e una penna o se preferisci una cartella all'interno della quale sul pc ci saranno diversi file per esempio di Word o ancora potresti utilizzare il programma di cui faremo un tutorial che si chiama ROM. Quando leggi qualcosa di importante non andare mai avanti nella lettura prima di averla capita a fondo non sottolineare non evidenziare devi solamente rielaborarla in testa cercare di renderla un po più semplice e quando l'hai semplificata e rielaborata quindi quando è diventata farina del tuo sacco la scrivi sul foglio insomma non puoi fare copia e incolla sei costretta o costretto a fare tuo l'argomento il singolo concetto la singola informazione prima di scriverla è una cosa di cui abbiamo già parlato nel video sulla presa di appunti e nel video sulla schematizzazione che bisogna sempre far propri gli argomenti e rielaborarli prima ancora di scriverli attenzione che la cosa molto bella dello zelkasten è che non devi avere a disposizione solo un foglio su cui prendi tutti gli appunti in ordine bensì diversi fogli ciascuno per ogni argomento o per ogni area potremmo definirli come dei contenitori all'interno delle quali vai a mettere le tue note ordinate tutto ciò che è riferito a un argomento lo metti su un foglio a un altro argomento su un altro foglio e a un altro argomento su un altro foglio ancora il terzo passaggio è ancora più bello si tratta di rielaborare le note che hai preso gli appunti che hai preso in ciascuno di questi fogli riassumendole e integrandole tra loro all'interno di un discorso che fila a onor del vero questo non deve essere fatto per forza per iscritto è importante che tu capisca i collegamenti tra ognuna delle cose che hai scritto all'interno di ciascun foglio e la cosa importante qui non è scrivere un capolavoro della letteratura né un libro di testo che verrà utilizzato nella tua università è infatti possibile fare questo lavoro come dicevamo anche solo a mente non per iscritto ma ti serve per costruire dentro la tua testa un sistema di connessioni una rete per cui ogni cosa nuova che hai appuntato si collega con le altre e con le tue conoscenze pregresse non ci crederai ma lo zettelkasten fatto in questo modo mima proprio il comportamento del cervello umano per come è stato studiato dalle ricerche dai modelli connessionisti in psicologia negli ultimi 20 anni forse è proprio questo che lo rende così affascinante e illuminante che più rielabori di nuovo le informazioni che hai appuntato più le metti in rete più diventa facile ricordarle farle tue e riutilizzarle il procedimento richiama un po quello del collegamento che facciamo all'interno del corso memoria origin solo che in quel caso lo facciamo senza scrivere niente in questo caso continuiamo a scrivere perché alla fine dopo che abbiamo sintetizzato le informazioni i concetti collegandoli tra loro li mettiamo all'interno di una specie di scatolone ordinati per come li vogliamo o li vorremmo ritrovare nel momento della necessità per esempio se volessimo scrivere una relazione o se volessimo portare quell'argomento all'interno di una tesina o addirittura al prossimo esame prendere appunti e prendere note in questo modo secondo il metodo zettelkasten che tu scriva a mano o su computer oppure attraverso i programmi dedicati potrebbe far cambiare il modo di ragionare del tuo cervello letteralmente mentre cammini per la strada mentre corri mentre parli con una persona guardi una serie tv potrebbe venirti in testa qualcosa di geniale di interessante una riflessione un approfondimento che nasce non si sa da dove e che è relativo a quello su cui hai preso delle note o degli appunti durante la giornata o nei giorni precedenti infatti ti consiglio se decidi di usare questo metodo di presa di note e di appunti di tenere sempre con te un taccuino o dei fogli su cui appuntare le riflessioni e le idee che ti vengono in mente nei momenti più impensati questa è una cosa di cui io sono un entusiasta sostenitore lo faccio continuamente giro sempre con più agende e prendo appunti quando nei momenti più assurdi mi viene in mente qualcosa da scrivere e poi prendo quel foglio e lo metto nella scatola dedicata insieme agli altri fogli che parlano di quell'argomento e anche questo nuovo foglio contribuirà a nuove riflessioni nuovi approfondimenti nuove idee entrerà in rete insomma il metodo zettelkasten quando inizi a prendere appunti così diventa un formidabile accumulatore di conoscenza non perdi più niente non puoi dimenticare più niente inizi a ricordare tutto quello che senti che leggi e che scrivi il metodo zettelkasten per la presa di appunti e di note efficaci è più difficile a dirsi che a farsi ti basta dello spazio su un tavolo su cui mettere delle piccole pile di fogli non hai bisogno per forza di scatole ti bastano delle graffette uno spazio sulla scrivania su un tavolo per terra su un muro dove vuoi per raggruppare questa è la parola importante che deve guidarci raggruppare gli argomenti le informazioni i concetti all'interno di scatole di conoscenza e se lo facciamo già da oggi abbiamo come un'illuminazione ci andiamo subito conto che ci permette di fare cose straordinarie e non ho dubbi che per come ve l'ho presentato perché io ne sono veramente entusiasta questo metodo per prendere note e prendere appunti già vi piace e siete già pronti a provarlo coi vostri fogli raggruppati per argomenti quindi se vi è piaciuto come piace a me mettete un like condividete questo video con chi ha bisogno di imparare a prendere appunti e note efficaci e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate io vi rispondo sempre mi interessa come usate i vostri metodi di presa di appunti per esempio e se avete nuovi argomenti e nuovi suggerimenti a cui anche in questo caso cerco sempre di rispondere e di fare video dedicati e colgo l'occasione per ringraziarvi anche oggi di cuore per aver guardato fino a qui fino alla fine questo video quando vi va iscrivetevi al canale e soprattutto fate clic sulla campanella per ricevere le notifiche di tutti i nuovi video le nuove puntate che usciranno sempre più di frequente e per non perderne neanche una più iscritti siamo più le puntate diventeranno interessanti tarate sulle vostre esigenze quasi chirurgiche a rispondere ai vostri bisogni e per me è un grande regalo quando vi iscrivete al canale perché mi aiuta molto a farlo crescere e a diffondere la filosofia di memovia e adesso stanno per apparire anche dei video accanto a me così possiamo continuare a stare insieme e mentre vi iscrivete al canale e mi scrivete qui sotto io continuo a fare ricerca a studiare sperimentare tutto il possibile da solo mentre studio mentre lavoro con gli allievi dei corsi memovia e ci vediamo qui molto presto ciao